Salve ragazzi! Anche se non abbiamo molta esperienza possiamo realizzare delle cose fantastiche con il nostro DJI. Vi faccio vedere le mosse più utilizzate dai professionisti per realizzare delle clip stupende. Vediamo 5 movimenti base per realizzare delle clip veramente di livello avanzato. Non perdiamoci in chiacchiere e procediamo subito con questi 5 movimenti da fare con il nostro drone. Non perdiamoci in chiacchiere e procediamo subito. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un volo semplice, lineare, impostare una traiettoria, trovare una linea e mantenere la rotta. Questo è il trucco che usano i professionisti e che io vi consiglio di sperimentare. Bene, a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi qua sotto un commento e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto. Se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? Vi aspetto qui nel canale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!